Musica Cosa dell'altro mondo, guardi, io non mi ricordo mai E' tutto sotto sopra, non se lo ricorda nessuno queste cose qua La mancanza di manutenzione Colpa dell'uomo A San Giorgio abbiamo una collina intera in movimento Ed è spaventoso Con aiuti, risorse Eh, se ce le danno Altrimenti? Altrimenti siamo qui Castiglione Messerraimondo dalla fragilità assoluta Sotto il peso della neve e della pioggia delle scorse settimane Colline che franano in un lento movimento inarrestabile Abitazioni evacuate, strade interrotte Tra principali e secondarie Quattro contrade in ginocchio Un paese che si guarda attorno perplesso, smarrito Mai vista una cosa del genere Castiglione Messerraimondo Quasi 3.000 anime nella Val di Fino Splendido centro storico e vita tranquilla La classica di paese Adesso rischia di smarrirsi E' stato il comune d'Abruzzo più danneggiato dal maltempo Nella conferma di un allarme idrogeologico che ormai si ripropone con frequenza inquietante Siamo tra il Vomano e il fiume Fino E qui siamo proprio nel centro del paese dove è visibilissima una delle frane più imponenti Ma tante altre Ce ne sono e ne parliamo con Marco che è uno dei residenti Cosa è successo qui? Sì, qui la situazione è precipitata dopo la forte nevicata che è avvenuta il 5 E da allora è stato un calvario totale La notte è caduto giù un pezzo di paese E poi da lì si sono susseguiti in una settimana tante tante altre frane E abbiamo chiuso il sindaco, ha deciso di chiudere la provinciale Perché veramente basta guardare il perché E non sappiamo ancora se i movimenti si sono fermati Oppure se avremo ancora a che fare con queste frane Ci sono colline interi in movimento? Esatto, sì, a San Giorgio abbiamo una collina intera in movimento ed è spaventoso Qui sotto cos'è successo? Nel cuore della notte è scivolata a valle questa collina? Sì, verso le 5 della mattina è partito tutto il costone che va dal Belvedere fino al cimitero Il paese è posto su un colle che guarda il fiume Fino Da sempre dedito all'agricoltura Le sue origini pare siano medioevali Ma è anche stato un importante punto di riferimento del popolo dei Vestini S'ha donato il protettore di un popolo fiero e laborioso Che adesso conta i danni e guarda il futuro con crescente preoccupazione Ha chiesto lo stato di calamità il sindaco Giuseppe D'Ercole Eletto a maggio dello scorso anno per il centro-sinistra dopo anni di governo opposto Si aspettano fatti e non chiacchiere di circostanza Ovvio che la mano dell'uomo e le sue responsabilità nei confronti della natura Hanno favorito smottamenti e frane Il fenomeno è in atto, cosa mai vista da queste parti In passato è mai successo qualcosa del genere? No Solo in questa occasione? In questa occasione, altre volte c'è stata qualche piccola frana Ma si parlava di 10 metri cubi di terra, non era più di tanto Ci furono aiuti, risorse? Se ce li danno Altrimenti? Altrimenti siamo qui, che vogliamo fare? Rimane la protezione di San Donato Purtroppo, che possiamo fare? Ciao Questa è un'attività, una pizzeria che è stata chiusa a seguito degli smottamenti Chiusa ed evacuata Infatti si vede proprio lo staccamento del terreno rispetto alla struttura Tanta terra poi è scivolata a valle E i tecnici stanno monitorando quotidianamente l'evolversi della situazione Per vedere se sarà possibile riaprirla oppure non ci sarà niente da fare Buongiorno, scusate l'intrusione Sappiamo che siete rimasti isolati in una frazione per qualche giorno Contra da giardino Cos'è successo? Sono avvenute delle frane, insomma, molto pericolose Ci ha bloccato un po', però stanno risolvendo Adesso siete rientrati a casa? Sì, siamo rientrati, però il problema è ancora le strade che continuano a franare E poi ogni volta che pioverà immagino la vostra preoccupazione? Sì, sì, insomma da anni questo problema, non è solo da adesso Però cosa si è fatto? Poco? Beh, è stato fatto, però non abbastanza Quindi colpito Castiglione-Messerraimondo, mentre quello che paese è? Montefino Montefino, perché sovrasta il fiume Fino che scorre ai suoi piedi E ci sono stati problemi lì? Minori rispetto a noi, anzi quasi nulla rispetto a noi, diciamo Altri comuni del comprensorio, del circondario colpiti? Bisenti e Arsita Sì, Arsita soprattutto dalla neve e bisenti dagli smottamenti anche lei Che sta succedendo a questo paese? E' tutto sotto sopra, non se lo ricorda nessuno queste cose qua Anche le persone anziane che hanno 95 anni ha detto che non si ricorda un'annata così E adesso? Adesso stiamo a aspettare il signore che l'ha metta a posta, se no l'ha metta a posta dicione Siete preoccupati? E' altro che preoccupato, veramente guarda I terreni tutti disastrati, le case tutte franate attorno, tutti con la paura addosso stiamo Secondo voi le cause quali possono essere? Forse si è costruito in posti dove non si doveva costruire, il terreno è strappesantito, i corsi d'acqua sono stati cambiati oppure no? Sono diverse, sì, diverse cose, prima di tutto la manutenzione delle strade e di tutto, cioè anche i contagi stessi costa me le treppie che stavano Non fanno neanche quei solchi che quando pioveva scorreva se non andavano dentro i fossati Invece adesso col tempo finisce così purtroppo Quindi occorrerebbe un po' più di cura, di attenzione? Sì, sì, principalmente quello, sì Però io mi ricordo del 1956 che l'ha fatto lo stesso queste cose Però fu la nevicata storica nel 1956? Un mese e mezzo di neve l'ha fatto, e l'ha fatto le stesse cose L'idarno è stato sempre quello, però quello che l'ha rimettato a posto difficilmente Non si sa che cosa può venire A bordo di un fuoristrada l'amministrazione comunale vuole a tutti i costi farci vedere e documentare lo stato delle contrade più colpite Ci precede l'auto del sindaco con un'altra troupe Con noi viaggia il consigliere comunale Elodia Di Vincenzo, guida Marco Colicchia, appassionato castiglionese Fango, strade dissestate, interruzioni, alberi pericolanti, frane a perdita d'occhio Lo scenario è quello di un teatro di battaglia Con il consigliere comunale, la signora Elodia Di Vincenzo E grazie all'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione anche un fuoristrada Ci dirigiamo verso i punti critici, che sono più di uno Sì, sono sicuramente più di uno Abbiamo diverse posizioni disastrate Adesso ci stiamo dirigendo verso la località San Giorgio E' precisamente Valletraglia e Valloni Cos'è successo lì? Abbiamo avuto degli sgomberi Perché purtroppo, a dir la verità, di case lesionate non sono un granché Però il problema è la viabilità Mai si era verificata una cosa del genere sul territorio? No, mai Una cosa del genere mai E neanche ce l'aspettavamo di queste proporzioni Benché il meteo metteva sul brutto Non avremmo mai pensato Meno male che non ci sono state vittime Questa è stata la nostra fortuna E devo dire la verità Si è trattato semplicemente di fortuna Perché nelle strade crollate In quelle ore passavano operai che andavano al lavoro Scuola, bus Quindi la fortuna ci ha assistito Arriviamo in Contrada San Giorgio Alcune case sono isolate Il movimento franoso è monitorato quotidianamente E procede con lentezza inarrestabile Danni strutturali compromettono la stabilità di alcune case Ho visto che c'è un fronte che proprio sta scivolando Ha portato la strada di qualche metro più avanti Facendo la scivolata Sì, sì, è vero Si vede qua Perché non c'è C'è una macchina di neve bianca là sopra Mai si era verificato qualcosa del genere? Mai Io ho 50 anni che sto qua Mai, mai, mai Qualche costo, qualche stupidaggio Non so Però mai così Sembra un teatro di guerra Cosa dell'altro mondo Guarda, io non mi ricordo mai Adesso? Adesso sì Mi sembra una cosa assurda Che mai Mai capitano Un fatto del genere Preoccupato per il futuro? Certo Perché non sappiamo Che c'è sotto Io mi preoccupo E' coma Due giorni di maltempo diffuso Con neve e pioggia Sono bastati Per mettere in ginocchio La piccola comunità Molti cittadini sono rimasti Senza acqua nel luce Alcune famiglie Hanno avuto l'energia elettrica Solo grazie ai gruppi elettrogeni Dopo la tempesta Il presidente della regione Luciano D'Alfonso Ha raggiunto Arsita Per incontrare i sindaci Dei comuni della vallata E conoscere la situazione In modo approfondito A causa della gravissima devastazione Del 5 e del 6 marzo scorsi L'amministrazione comunale Con delibera numero 13 Ha chiesto agli organi regionali E nazionali competenti La dichiarazione Dello stato di calamità naturale Per l'intero comune Ad oggi Tecnici che sono arrivati Dalla regione Provincia Hanno detto che Fin quanto Il movimento franoso Non si arresta Siamo inermi A fare qualsiasi cosa Perché Anche un ricarico minimo Di materiale Potremmo peggiorare La situazione Appena si assesterà il tutto Ci rimboccheremo le maniche E cominceremo A fare qualcosa Ecco State monitorando Passo dopo passo Tutte le situazioni Più delicate Certo che ci sarà Da rifare Da riservire Le abitazioni Con quali soldi E con quali preoccupazioni Con tanta preoccupazione E niente soldi In questo Confido Nelle istituzioni A vari livelli Al di sopra di me Perché Si attivino Per darmi una mano In qualche modo Territorio comunale A 125 km Di strada Che Per la maggior parte Sono interessato A movimenti franosi E Ostruite da frane E il comune Avrà qualche Problema Per Ridare Un minimo Di viabilità A tutte Sempre Contrada San Giorgio Ed è qui Che è partito Il fronte Della frana Si vede proprio Evidente Per uno slittamento Di centinaia di metri Eh sì Purtroppo È proprio qui Questo è il punto In cui Si è scatenato Diciamo L'inferno In Contrada Valloni Che poi È qui sotto E vi faremo vedere Questo è il punto Il punto principale Della frana Qui ha portato via La conduttura principale Dell'acqua Rotture ripetute Siamo stati costretti A rimanere senza acqua Per diversi giorni Per consentire Il posizionamento Di nuove tubature Lì abbiamo visto Dove è partita La frana Il fronte E adesso Ci troviamo Praticamente Al di sotto Dove la frana Ha procurato I maggiori danni Quindi qui abbiamo Parecchie famiglie Sgomberate Costrette a lasciare Le loro abitazioni Potete vedere Benissimo Interi tratti Di asfalto Che non ci sono più Vedete Questa casa Questa è una delle case Evacuate Questa è una delle case Evacuate Questa è la prima Questa è la prima casa Ben Quante ne sono 14 Qui ne abbiamo 5 o 6 Di famiglie In questa zona 5 o 6 famiglie Evacuate Qui Come avete visto Anche poc'anzi Il piano stradale Era questo qui Questa casa Che ci troviamo Che vediamo Dietro di noi Qui A detta del proprietario E dei suoi tecnici Si è spostata Letteralmente Di 5 o 6 metri Si vede anche Occhio nudo È come se fosse Un isolotto In mezzo a un fiume La frana Passa da Ambe i due lati E il piano stradale Era questo Qui c'era stato Un distacco Di 5 o 6 metri E adesso Con I nostri mezzi Stiamo cercando Di riaprire Un varco Ai proprietari Delle altre case Ce ne sono Altre 5 La vediamo Lì sullo sfondo Completamente Traslata Quindi vediamo È diventata Storta la casa Si Quella ha avuto Un danno strutturale I proprietari Per fortuna Non ci sono Attualmente Ma ha avuto Degli danni ingenti Anche quelli Cose Da pazzi Ciò che ho visto Cosa ha visto? Vedere certe cose Fanno una certa Impressione No O è colpa Dell'uomo O è colpa Della natura Ci sono sempre Le responsabilità Cosa ha visto In particolare? Le cose si fanno Quando Si possono fare Prima che capitano I pali Che stanno Anni e anni Che pendono Fratici Passano Ripassano I responsabili Non vanno Nulla Non aggiustano Non riparano La mancanza di manutenzione Colpa dell'uomo La mancanza di manutenzione e la qua la stacca non vengava qui Qui proprio gli effetti evidenti del movimento franoso si interrompe la strada qui dove c'è il mio piede e vedete la strada che è di un dislivello di circa una decina di metri era perfettamente il tornante di questa strada quindi vedete come completamente si è abbassato il manto stradale, effetti incredibili del movimento franoso e poi vedete lì a valle c'è quella casa che abbiamo inquadrato anche dalla strada mentre raggiungevamo questo posto quella è una casa abitata da una vecchina che è scivolata di 50, 60, 70 metri, qui sindaco gli effetti più evidenti di uno smottamento catastrofico, incredibile, guardate questa strada che è scesa Sì, questo rappresenta pieno il disastro che ha subito il territorio comunale di Castiglione Messerraimondo qui gli antichi dicevano che era il punto più saldo di questa frazione, oggi purtroppo noi non possiamo confermare questo Sulla casa che è scivolata a valle, meno male che la signora aveva deciso di uscire, aveva sentito qualche cosa? No, la signora a dire la verità non si era accorta di niente, era uscita per le sue normali mansioni domestiche ed è stata una fortuna diciamo che è stata graziata Questo è un evento quasi eccezionale, vedete quest'albero, quest'albero si è adagiato a distanza di circa 100 metri da quella che era la sua sede naturale dove c'è stata la frana Ed è letteralmente scivolato poi ricadendo praticamente sulle radici in questa posizione, qualcosa di incredibile e un altro albero ha avuto stesso esito però distante una cinquantina di metri Guardate la frana e poi dove si è adagiato l'albero, incredibile Ringraziamo tutti, tutti quelli che sono intervenuti, le varie associazioni e anche voi giornalisti che in questo modo ci darete atto che la situazione non la stiamo allarmando noi ma è allarmante di suo Che è uno stato di calamità effettivo e reale Esatto, la nostra calamità è questa e non potremo rialzarci da soli, abbiamo bisogno d'aiuto, le istituzioni dovranno intervenire e li ringraziamo in anticipo Noi stiamo ritornando in comune dopo questo viaggio all'interno di questa ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il paese Viene un magone vedendo questo paese tanto suggestivo, tanto caratteristico, pittoresco, bisogna difendere? Sì, questo è una cosa, hai detto bene, a cui noi teniamo molto e vorremmo che questo paese fosse il simbolo della vallata Sia per bellezza che per quant'altro Io come primo cittadino oggi la prima cosa a cui penso e a cui tengo Non solo per me ma specialmente per i cittadini che mi hanno preceduto e che susseguiranno poi La gente che dice? La gente adesso è... Quanto coraggio c'è? Coraggio sì, devo dire che anche ieri sera a un'assemblea pubblica ho ribadito che i castiglionesi sono un popolo forte E sono convinto che reagiranno al meglio, però in questo momento c'è tanto sconforto In bocca al lupo Grazie